La Regione Calabria fa della pianificazione, la programmazione un punto di forza per una classe dirigente che vuole veramente intervenire per dare un contributo serio e qualificato nel comparto del turismo. Quello da croceristico l'abbiamo presentato nei giorni scorsi a Regione Calabria e oggi presentiamo il piano legato alle nuove compagnie aeree che arriveranno in Calabria, che arriveranno nei nostri aeroporti, nelle nostre strutture aeroportuali. Ce ne sono alcune completamente nuove come la Livingstone che utilizzerà l'aeroporto di La Mezzia e quello di Reggio Calabria e come la V-Hailing che interverrà con dei voli da Roma sia da La Mezzia che da Reggio Calabria e in questo caso anche l'aeroporto di Crotone che vedrà finalmente l'arrivo della Ryanair che era un impegno già annunciato e che si consolida attraverso la capacità di incidere in maniera ancora più forte sulla Mezzia Terme dove Ryanair fa dei numeri importanti. Credo che questo investimento sia la dimostrazione di una nostra scelta molto chiara, di un finanziamento che abbiamo messo in campo mirato all'idea di riuscire a coinvolgere nuove compagnie aeree per rafforzare e per avvicinare sempre di più gli altri territori alla Calabria e quindi dare un'opportunità maggiore anche ai nostri utenti e quindi nel campo del turismo a quelli che sono gli operatori del comparto.